bentornati a tutte ea tutti bentornati su questo canale come vedete sto inquadrando una stampa di santo espedito ma adesso mi sposto vado giù sull'altare e vi faccio vedere anche la sua bellissima statua la sua bellissima immagine ebbene allora carissimi e carissime tutte stiamo andando ad apprendere un forte forte rituale di ritorno d'amore tramite l'intercessione fortissima poderosissima di questo santo eccezionale santo espedito cultuato in tutto il mondo tutto il mondo lo conosce certo ci sono anche altri culti per esempio nel vudo è chiamato in un altro modo e agisce in un altro modo ma noi ci stiamo rivolgendo a santo espedito o comunque allo spirito chiamato poi nella tradizione santo espedito lo spirito che è stato investito da da dio del potere di risolvere i casi più disperati i casi più urgenti nel modo più veloce possibile infatti è il santo del della rapidità dell'undicesima ora che non si invoca quando è troppo mai tardi quindi si invoca proprio in situazioni di estrema urgenza questo lavoro forse non lo conoscete è un lavoro che si fa per l'amore certamente vi dico subito non fatelo non fatelo per situazioni capricciose per situazioni diciamo così di un effimera passione fatelo per situazioni dove il compagno la compagna il fidanzato il convivente la moglie il marito ovviamente io parlo in termini eterosessuali ma intendo anche omosessuali non fa alcuna differenza si è allontanato o si è allontanata o ci sono dei grossi problemi per cui la persona che amate è lontana da voi sia fisicamente sia a livello anche spirituale quindi non vi considera più ha cambiato atteggiamento i suoi sentimenti sono andati a scemare per vari vari motivi e quindi che chiediamo la protezione la protezione potentissima di santo e spedito per appunto creare un miracoloso ritorno d'amore allora sull'altare già vedete quello che serve dovete preparare il vostro appunto piano di lavoro se non avete una statua usate una stampa che potete stampare da internet e la ponete qui procuratevi un calice o un bicchiere con dell'acqua fresca e due fiori rossi possono essere rose possono essere garofani possono essere fiori rossi anche di un'altra tipologia poi vi procurate un altro calice con del buon vino rosso dove andrete poi a mettere faccio vedere un pochino di miele ok e qui ci siamo altre altre cose che servono davanti alla stampa o comunque alla statua mettete 19 monetine vanno benissimo i centesimini 19 monetine perché santo e santo e spedito esige energia esige il suo pagamento da buon soldato per diciamo arricchire l'altare in quanto sono simboli molto assonanti con lui potete aggiungere se l'avete una bottiglietta d'acqua benedetta se volete aggiungete anche un crocifisso va benissimo se appunto gradite usate accendere un incenso in onore di santo e spedito può essere un incenso d'amore di rose di lavanda ma anche un incenso che le so alla mirra per dire o un incenso allo libano ce ne sono tanti di incensi gradevoli e comunque in assonanza poi vedete qui vi servirà un pezzetto di nastro di nastro rosso tre candele rosse perché lo facciamo in tre giorni questo lavoro dura tre giorni e poi i testimoni potete usare due foto quindi la foto vostra e la foto del partner oppure se non le avete due foglietti dove scrivete appunto nome cognome date di nascita che potete benissimo usare se non avete le foto quindi premunitevi di tutti questi materiali allestite l'altare in questo modo e andiamo ovviamente a iniziare allora intanto mettiamo da parte due candele perché queste serviranno per i prossimi due giorni e poniamo sul diciamo piatto di lavoro che può essere anche di quelli di alluminio come un piatto grande che avete a casa un piatto di coccio andiamo a mettere la candela rossa ovviamente l'offerta a santo e spedito l'andiamo ad accendere ok e se volete andate ad accendere un incenso per armonizzare tutto l'ambiente per gradimento a santo e spedito e poi a seconda che voi usiate usiate le vostre foto oppure i foglietti con scritti una sola volta nome cognome date di nascita come vedete chiaramente inquadrato ora faremo questa simulazione facciamo finta che avete le foto e mettiamo da parte i foglietti cosa fate mettete le foto che ovviamente io ho ritagliato da un giornale sono persone che non c'entrano ovviamente niente quindi sono solamente per esempio le mettete a faccia a faccia a faccia in questo modo poi se avete delle foto un pochino più grandi va benissimo ovvio è solo per farvi capire il concetto di lavoro e con il nastro rosso con questo nastrino rosso prendete fate un attimino magari una piccola piega le piegate un attimo e le andate poi a legare a legare con 19 nodi a questo punto voi siete davanti alla grande entità di santo e spedito avete acceso la candela avete acceso il vostro incenso avete fatto le vostre offerte è come come spiegato avete già preparato le foto legate con 19 nodi di nasso rosso e andiamo con grande amore con grande fede con grande partecipazione a fare l'orazione d'amore di santo e spedito che vi leggo e poi vi metterò nel box vi fate il segno della croce nel nome del padre del figlio e dello spirito santo e dite tre gloria al padre al figlio e allo spirito santo in onore di santo e spedito e poi dite odie 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 che vuol dire in latino oggi oggi in quanto è una parola sacra per santo e spedito e il santo dell'oggi non del domani e proseguite con la sua orazione glorioso e amatissimo santo e spedito martire vittorioso e colmo di grazia divina fedele soldato di cristo a te mi rivolgo pieno di fede e speranza in virtù della tua potenza e del tuo potere che dio ti dette ora e per sempre o diletto e valoroso santo che inter che intervieni nelle situazioni più urgenti e disperate con la massima velocità io nome e vostro cognome ti chiedo la grandissima grazia di riportare da me nome cognome della persona che deve tornare da voi che è la persona che amo e per cui soffro santo e spedito non rifiutate questa supplica e presto esauditemi avrete la mia eterna gratitudine e la ricompensa di e a questo punto voi assolutamente dovete fargli la promessa della sua paga della sua ricompensa per dire santo e spedito se tu mi fai questa opera di ritorno io ti prometto immediatamente di offrirti faccio un esempio un mazzo di rose rosse oppure un mazzo di rose rosse e ulteriori tre candele e anche molto importante ti offro la mia gratitudine diffondendo in tutti i posti possibili ciò che è fatto per me quindi via internet via fogliettini che potete scrivere e stampare e poi magari distribuire come si faceva nell'antichità nelle chiese quindi dovete proprio ringraziarlo con un'offerta materica l'idea che vi ho dato è quella di un bel mazzo di fiori rossi di almeno altre tre candele altrimenti potete usare anche un velon una candela da sette giorni e gliela rimettete davanti come ringraziamento e poi non vi dimenticate di onorarlo raccontando anche con le vostre iniziali con un certo anonimato ciò che ha fatto per voi diffondendolo in più posti possibile sul web che ce ne sono tanti tra tra siti dedicati tra forum tra tra social questo è molto importante e a lui è molto gradito cosa facciamo poi di questa o diciamo in volto che racchiude le vostre foto legate ovviamente con il nastro ecco queste qui le lasciamo qui perché ogni giorno finita la candela ne rimettete un'altra un'altra ancora fino al terzo giorno e ovviamente ogni giorno recitate l'orazione quindi per tre giorni voi offrite la candela rossa una candela rossa al giorno per tre giorni accanto di lato ci sarà questo piccolo pacchettino con le foto legate con 19 nodi suo numero ovviamente anche qui 19 monete e poi quando tutto è terminato potete mettere in natura non nella spazzatura quindi vaso prato un albero quello che vi pare un giardino un pezzo d'erba sia le rose l'acqua sia il vino che avete offerto le monete potete anche anzi è consigliato recuperarle e offrirle in una chiesa oltre ovviamente la promessa che gli avete fatto diciamo all'inizio quindi carissimi amici e amiche un lavoro che forse non avete ancora visto perché si usa dire santo espedito è un santo rapidissimo per una marea di richieste ma molte in molte concezioni lui lavora per la giustizia per il lavoro per l'urgenza di denaro per una per un debito urgentissimo o per qualcosa ovviamente che non che stentiamo a vendere cioè cose più diciamo legate alla materia in realtà santo espedito può essere cultuato anche per l'amore fate questo rituale fatemi sapere se volete se vi fa piacere lasciatemi un like iscrivetevi se volete al canale se vi fa sempre piacere in modo che cresca ancora di più e niente sono felice di avervi passato questo lavoro e vi do come sempre il mio abbraccio il mio saluto e vi dico un bacione e a presto da simonetta